Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo tornati in un nuovo video, oggi siamo tornati in un vlog, il mio primo vlog, oggi andiamo al parco Gallipoli Cognato Comunque ragazzi, ci vediamo in Pullman, mi raccomando se il video vi piace, lasciate un bel pollice in su, bella, ci vediamo in Pullman Ok, bella In Pullman, partiamo per Gallipoli Cognato e dicemo Orazio E niente, vabbè, ci vediamo, boh, boh, non lo so manco questo, ci vediamo a Gallipoli, forse mangio un cuorino e ci si, bella, bella regà, ci vediamo, ciao Partito il Pullman, eccolo, si muove, ciao Ho detto la signora vecchia come, non lo possa essere, sì E' partito regà, noi siamo Orazio, ci vediamo, ci vediamo, oh al parco, ci mangio un panino, bello Allora, percorso della pendura, tengo io il terapia, non fava tu con la cosa, percorso della pendura e l'occellino Non fai niente regà, eccoci Che hai da dire? No, allora, il corso, ho visto lui con una faccia da dinosauro, mi sono uscito a fare la foto di nascosto Con una faccia di cazzo lungo la madonna, quindi proprio non me la devo postare Vediamo un attimo regà Stiamo camminando qua Stiamo camminando regà Vediamo un attimo Devi stare avvicinando Quindi vabbè, vediamo un attimo che cosa facciamo e poi ci rivediamo, ok regà? Stiamo scendendo regà Stiamo scendendo da qua Stiamo scendendo regà Eccoci qua Quindi andiamo avanti Ma che cosa fanno? Un biliardino a caso Comunque sei giusto Quest'anno E lo fai vedere, fai un quadro e dieci Io vado più con il modo e vado più passare il posto Eccoci regà Vediamo un attimo che facciamo e poi ci rivediamo Un panino ma ci siamo seduti Anche un panino con la mortadella Quello con la mortadella Anche tu Vedi? Vedi il posto No, non ci sappiamo Guarda qua Non ci sappiamo, è solo questa la Ci sta Comunque regà Vediamo se ci rivediamo in autobus E niente regà Quindi Ora siamo qui tutti radunati Vedete Vabbè comunque dopo ci rivediamo Bello regà Regà passeggiamo un po' Spasseggiamo A caso Percorso verde Ma questo non è manco un percorso E' un filo dell'elettricità Ma che cazzo dici Che cazzo dici Che quello là Ma vedi che è dell'elettricità Ma che dici Ma vedi che questo filo Ma è dell'elettricità sto filo Quello là Sì, sì Mi ho portato a lei Quello là Vedi che è dell'elettricità Bello Ma mi fa questo Matteo E E E E E E E E D E 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 un po' di un metro io me lo tengo nella testa ho il proprio al sodo a chi vende? a questo vende? come si vende? ha menato una botta in culo t'ammaccio ora ehi ehi ora 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 vieni qua ora vieni qua un attimo vieni qua un attimo vieni qua vogliamo che li chiunque hai messo il tutto no 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 ma tu sei cretino ora guarda che rumore strano che fa e guarda che rumore ora tu sei cretino mi ha ammazzato il dito mi ha ammazzato il dito mi ha ammazzato il dito il dito si può ammazzare oh 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 questo è un ramo guarda una cosa guarda una cosa guarda che dà raga ora mi vedete qua raga non voglio dirvi che è successo noi ci siamo messi le imbragature queste qua per fare appunto salire da lì e fare queste cose qua però questo qui è semplice raga abbiamo fatto quello lì verde e raga sono sono caduto quasi e poi mi hanno fatto scendere perchè non ce la facevo raga e niente poi vediamo che facciamo semmai ci rivediamo eccoci raga ho appena finito di mangiare a pranzo ci ha mangiato una pizza attenzione sta facendo qualcosa non si sa neanche cosa sto facendo niente raga comunque vediamo che facciamo ci rivediamo ciao raga allora raga abbiamo mangiato un gelato ora sta facendo una passeggiata racconta che hai fatto stamattina racconta no già l'ho raccontato prima già l'ho raccontato vai parla parla è uno di quelli più bassi vabbè non so proprio solito no no non è basso vabbè è uno di quelli più cioè vabbè comunque è il verde su uno normale medio basso lui è salito io vabbè non so proprio salito perchè lui ha paura no non è perchè ha paura perchè se vado sopra praticamente uh eccolo là se vado la praticamente vomito perchè se guardo sotto poi vomito quindi non poteva vabbè comunque io ho avuto paura stavo per cadere lui ha avuto paura no non è aveva però diciamo che si è cagato sotto in parole lucane e quindi eh e quindi niente raga ora vediamo un attimo che cosa c'è qua 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 i daini raga ci sono i daini ora ve lo faccio vedere raga ma quello che sto suggerendo in teoria questo è piccolo ecco sono tipo ma quello che sto suggerendo è il daino i piccoli perché stanno ancora formando quando sarà grande per questo tipo scusca quindi raga qua c'è il daino raga qua dietro l'ho fatto vedere un po' ecco ecco ma non ti ricordi sta con la raga ecco 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 niente questo qua è il daino raga vabbè raga ci vediamo tra poco Raga, siamo andati appena nel museo, nel museo degli animali imbalsamati. Ora, che devo fare? Raga, ecco qua. Questo qui è il museo, raga. Siamo andati rettivo qui. Prima abbiamo visto anche i daini. Non so se l'ho fatto vedere. Andiamo. Quindi ora siamo qua. Ora siamo qui alle piante che vediamo un po' con lo spray, come odorano. Qua vediamo un po' con lo spray, che schifo, il timo. Non so se si vede, eccolo qua, timo. Che schifo, che schifo. Vediamo un attimo dove ci vediamo. Stiamo ritirando ora, andiamo a Orazio. Che è da dire su questa bellissima schifo? Che è da dire? Ho rotto un pezzo di ghiaccio, raga. Cioè, sono un boss. Infatti, raga, quindi, cominciamo ad andare, raga, al pullman. Oh, tempo, raga. E sbrigati. Dai. Aspettando a Orazio, vediamolo un po'. Ok, raga. Quindi, torniamo al pullman. Like. Bravo. Raccontri che lasciate like. Ciao, l'ho detto di dislike. Quindi. Niccolò. Ammazzo. Allora. Ha detto che siete molto a più. Andiamo, raga. Vabbè, comunque, ci riveliamo in pullman con... Lo cazzo c'è io? Con Orazio. Ho detto che siete molto brutti e vedete... No, raga, ovviamente, voi siete dei grandi. Questo qui non sa che dire ora. Dite così, lasciate shish. Forza, Stefania. E basta. Comunque, ci vediamo in pullman, bella. Ritorno con una patatina di Orazio Flacco. Raga, mo' ci ritiriamo, vediamo come va. Poi, se mai, ci rivediamo. Ok, Orazio? Orazio, va bene per te? Cosa? Che dopo ci rivediamo? Non è solito da casa. Ok, raga, bella. Spero che questo vlog sia perché ci siamo tornati. Opa, guarda che non è. Cosa, ma la premata dell'alto. Bella, l'alto.